Ciao a tutti, siamo gli Out4T1, qui Saxxy e Asso e oggi siamo qui in un gioco per Gentleman. Voi lo saremo? Voi lo saremo? Buonissimo saremo. Siamo a Gentleman Dispute, ovvero tipo una disputa tra Gentleman. Siamo un gioco. Che saremo le due? E' molto semplice il gioco, come vedete ci sono le stesse. Eh, io invece come, vabbè io colo con la Edie, cioè con la sinistra, Emma e Asso. Bene, bisogna far cadere il cappello dell'altro. Oh no! It's over 9000! Puff! It's over 9000! No! Sì! No! Hai due cappelli in testa! Ok, andiamo. Passa! 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 Passa che ti ha spento! Passa! Io te lo volevo work eh! Ti credi? Io te lo volevo work eh! Io te lo volevo work eh! Guarda! Guarda! Puff! E sarò le... Giù! 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 Sir, lei mi ha fatto veramente male! Non me l'hai fatto niente Sir! Si è male, si è la peggio Sir! Lei è bra... Lei è bra... Lo so Sir! It's over 9000! Epic fail! Oh! 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 Ma scusa! Cioè... E' bello questo... Andiamoci! E' bello! E dove sono? Oh chi? Niente della mappa! Niente della mappa! Si! No! Ma lo sto scoppiando! Sì! Mi dica tutto! Crepis! No! Vabbè deve crepare! No! Basta ma basta! E' to' volai! Tau's! Pfff! No! E' sto per te! E' il mio smoking! Sì! Ma lei è davvero un bastardo! Non c'è davvero un bastardo! Non c'è davvero un bastardo! Ma non sai come ho fatto! It's over 9000! Pfff! Pfff! Tupac! 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 Che è il mozzo di coppa degli dominani! Non devo muovere se! No! Ora muovere a lei! Perché questo è Tupac! 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 Perché non vuoi se! Perché non voglio! Perché non voglio! Muovere se! No! Arrivi! Non basta! Vada! No! Non dovevo farlo questo! Così sarebbe! Ora è rotto! Oh! Deve che mettere l'ultimo cappello che c'è di basta! Oh! Madonna! No! No! ZE! 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 oh saya pik fail sta piaba di spumato mamma mia ma o se ti ammazza cacchio il cu si vabbè meno meno Tito e crepa guarda sono anche mentira che mi ha qui ti prendo faccio apposta Tito come cazzo ha fatto? Tito mi vuole dare un bacino? io no crepa 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 ma si può veramente fuori si no no c'è crepa Tito 1000 1000 shut up shut up cosa mi sono imparato non lo so se no devi veramente mangiare Tito ZITO ZITO vai dietro la mia ZITO vai via vai via ZITO 9000 vedi quando mi sposto che cosa fanno stanno guardando che bello spettacolo tipo oh my god oh my god a reda cioè siamo i Matrix nooo basta ok basta veramente basta fatti sotto eccomi eccomi shut up ok shut up eccomi no fatti guarda sei fortunato perchè sono gentile io ho capito sono dei tuotis no ok faccio una mostra specialissimo io codice si si no 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 e' il telepolo di sassi lascia stare il mio telepolo gesù bel telepolo di sassi ok è il ultimissimo questa qua qui vai vai che ti faccio voglio io ti amo se la voglio dare tantissima shut up ti ho fatto con una cosa bruttissima guardate quella mia a quelli che ho preso la prima volta ma non è tanto quella mia della seconda eh tanto non ho visto zitto zitto me lo voglio a che fatti shut up it's over the thousand oh bitch no ooo e vuol dire spiaggetta e pur l'eurodismo scuoledico zitto spiaggia zitto 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 senti 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 uhohoh che cazzo che cazzo ha fatto ti faccio per te è rientrata della mia stessa testa non so se lei ha visto se lei non ci sono riusciti basta sotto 8 ora ok non sempre me ne è fatto non se è colpito me ne è una cosa che erano ballo ma che posso vedere adesso è possibile ballo io in fondo ma in fondo ma batto la testa con il cappello ti rispondo la capo e tanto voglio vincerò e il culetto ti spaccherò io te l'ho detto che te lo spaccherò ti trovo ben al caos salato un po un po un po un po un 2 9000 ok questo è brutto raga questa è brutta qua devo fare poi le mostre combinatissime io mamma perché ho perdito il cappello no 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 bastardo c'è un bastardo e crepa bastardo crepa capri in calore capri in calore ok ok io direi che il video può finire tranquillamente qui si può finire qui è tutto se il video vi è piaciuto ricordate un bel pollicione in su commentate qua sotto ricordate commentate commentate condividete condividete soprattutto per farci conoscere un po di più e alla prossima con gli altri sporttube YAO Tanto ossa ha perso comunque un siluetto quindi se la metta undercube zitto no pareggio zitto è stato un pareggio ma intanto scusa io ho vinto nella la nella mappa quella di enorme ma ma poi ho vinto quella piccola io ho fatto su quei come non fare con questi gesti male educato mi sa che era una piccola comunque se lo vedo adesso non c'è niente da fare e che il del te lo ho lasciato qui c'è ma statti zitto zitto metti di cappello ok ok sfida vai è non male la sfida ok no sfida sono tutti e due miei sono tutti e due miei ok pizzo vanna tosse ok vuoi vuoi capire il cappello così eh che no no sono tutti e due miei cappelli uno dell'alto non c'è il relato dell'aiuta mi ha detto i nuovi ciao ho vinto io